Sviluppi recenti nella serie Endless Love? Le ultime puntate della serie turca, trasmessa su Canale 5 stanno regalando numerosi colpi di scena, suscitando grande attesa tra il pubblico. In particolare, l'attenzione si concentra sulla figura di Asu, compagna di Kemal, la cui stabilità emotiva è ormai compromessa a causa della separazione dall'ingegnere minerario. Le anticipazioni turche rivelano che Asu, inizialmente, si unirà a suo fratello Emir con l'intento di distruggere il soidere e vendicarsi. Successivamente, compirà un gesto estremo tentando di uccidere Niyan per riconquistare Kemal, portandola a essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. Reazioni familiari e cambiamenti nei rapporti, un elemento significativo del racconto è rappresentato dal comportamento di Emir nei confronti della sorella. Sorprendentemente, il fratello si avvicina a Asu, mantenendosi vicino a lei durante il periodo di ricovero. La sua presenza diventa fondamentale. Emir si rende conto della gravità della situazione e trascorre del tempo con Asu, supportandola nel suo percorso di guarigione. Nonostante le sfide, cerca di convincerla a rimanere in ospedale per ricevere le cure necessarie. Inoltre, l'astio di Koz Choglu nei confronti di Kemal peggiorerà, alimentato da nuovi eventi che influiscono sulla vita di entrambi. Eventi salienti nelle puntate turche di Endless Love. Oltre ai già menzionati eventi chiave, le anticipazioni turche, fanno sapere che un altro importante sviluppo coinvolgerà il risveglio di Mujeygan, madre di Emir. Questo inaspettato evento conferisce a Mujeygan un ruolo cruciale all'interno della trama, è da considerarsi oltre un semplice personaggio secondario. Sebbene la donna sia zoppicante a causa di un incidente, mostra un forte supporto per Emir e Zeynep. Contrariamente, la situazione di Asu continua a deteriorarsi, portandola a una spirale di instabilità emotiva che influenzerà drammaticamente le dinamiche familiari.